Sono circa 48.000 euro i fondi messi a disposizione della Regione Campania per l'anno 2018 destinati agli inquilini morosi incolpevoli. Il Comune di Battipaglia ha varato le norme per accedere al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con provvedimento di sfratto già approvato con deliberazione di giunta regionale. Le domande dovranno essere presentate al protocollo generale del Comune di Battipaglia o a mezzo raccomandata entro inoltre il 31 dicembre 2019. Il bando integrale e la modulistica sono pubblicati sul stile del Comune sezione bandi avvisi e sono in distribuzione presso il settore politiche sociali, demografici ed affari generali sia in via Plava ed ufficio URP in piazza Aldomoro nei giorni di apertura al pubblico.